Il coronavirus è la rassicura situazione sotto controllo. Previsto il rientro di 500 cittadini dalla Cina. Sanità in funzione all'ospedale Santo Stefano, un'equip specializzata nella continuità assistenziale dei pazienti. Operazione antidroga della Questura, sequestrati i 100.000 euro di cocaina ad un soggetto recidivo. Gara del TPL, Atolinea Toscana respinge la proposta di Moabit, illegittima l'acquisizione di rami di azienda. Ultimi preparativi per la 38esima edizione del Carnevale Vaianese, domenica la prima sfilata. Una buona serata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con informazione di TV Prato. Si è tenuto a questo pomeriggio una commissione consigliare per fare il punto della situazione sul coronavirus. A Prato situazione sotto controllo. Comune Asla invitano a non fare allarmismi. Intanto nei prossimi giorni è atteso il rientro di circa 500 cittadini provenienti dalla Cina. Una commissione per informare e rassicurare sul coronavirus, anche in seguito al sospetto caso emerso ieri, poi rivelatosi negativo, della donna pratese di 50 anni.